Il telefono a casa squilla e dall'altra parte della cornetta il sedicente nipote chiede alla nonna di fargli avere 5.000 euro per saldare un conto rimasto in sospeso. Ennesima truffa ai danni di un'anziana, questa volta la vittima è un 85enne di Ascoli che però è riuscita a presto a rendersi conto di essere stata truffata e ha denunciato quanto accaduto ai carabinieri. I militari dell'arma del comando di Ascoli e quelli di Napoli, grazie ad una meticolosa attività di indagine, hanno arrestato un 53enne e un 22enne di Napoli ritenuti gli autori della truffa. L'indagine è partita lo scorso 9 aprile. L'anziana ha raccontato ai carabinieri di essere stata contattata al mattino sul telefono fisso. L'interlocutore si è presentato come suo nipote e le ha richiesto la somma di 5.000 euro per saldare un acquisto di materiale elettronico per non perdere un acconto già versato. Poco dopo, la donna ha ricevuto un'altra telefonata da parte di un sedicente direttore, il quale le ha riferito che avrebbe potuto consegnare anche dell'oro insieme ai soldi disponibili. Così, dopo poco, si presenta a casa sua un giovane per prendere la somma necessaria. L'anziana gli consegna 400 euro in contanti e diversi monili in oro, tra cui braccialetti, collane e anelli. Quando la donna riesce a contattare però il vero nipote, a quel punto si rende conto di essere stata vittima di truffa. I militari del nucleo investigativo del reparto operativo di Ascoli, grazie a ricostruzioni fotografiche e impronte digitali estrapolate durante il sopralluogo, sono riusciti a identificare gli autori del reato. Il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno ha emesso la misura restrittiva degli arresti domiciliari. I due complici sono stati rintracciati a Napoli nei giorni scorsi dai militari ascolani e partenopei e sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa dell'interrogatorio di garanzia. I carabinieri sulla scia di questo caso invitano tutte le persone che vengono contattate telefonicamente da soggetti che non riconoscono o che si fingono parenti o amici di vecchia data a non dare seguito alle loro richieste, ma soprattutto di non fornire loro nomi di familiari o elementi rilevanti della propria vita che potrebbero poi essere utilizzati contro di loro e di contattare immediatamente il numero di emergenza 112.